Buongiorno a tutti, sono Andrea Folcia, sono Key Account per Centroalesatura e oggi vi presento questo progetto ARINA che è stato sviluppato internamente grazie alla partnership con Marchetto Rapid Prototyping. La costruzione di questa testata cilindro è completamente da una bozza di disegno fornita da un nostro cliente russo che ha richiesto questa innovazione tecnologica chiamata laser melting che praticamente crea la forma della nostra testata cilindro direttamente da un piano di sabbia e una fusione laser. Come vediamo dal video in questo momento viene inserito un disegno 3D all'interno della macchina informatica, la macchina informatica prende questo disegno 3D e lo trasporta direttamente sulla macchina laser. La macchina laser dispone vari piani di sabbia e non fa altro che andare a fondere ad alta temperatura questa sabbia per creare piano su piano la nostra forma completamente in 3D. Il vantaggio di questa innovazione tecnologica è che è completamente fedele al disegno in 3D. Quindi una persona non deve fare altro che controllare accuratamente il proprio disegno, la propria realizzazione dopo la bozza in 2D e la forma verrà di conseguenza. Perché affidarsi a questo tipo di processo tecnologico? Innanzitutto, come ben sappiamo e come sicuramente sarà capitato molte volte anche a voi, il cliente viene a chiedere la realizzazione di un progetto da bozza, di solito con molta urgenza. Il tempo medio per la realizzazione di una testata cilindro di queste dimensioni, che sono più o meno un cubo di 500 mm. Sono molto lunghi, si parte da un otto mesi totale, compresa la lavorazione a macchina. Il totale di questa, le tempistiche totali di questa realizzazione è stato di quattro mesi, quindi tempi dimezzati completamente. E anche grazie alle fonderie palmieri abbiamo poi realizzato il vero e proprio stampo che è andato a formare la vera e propria camera, il pattern che è andato a formare la fusione corrente che utilizziamo tuttora per fornire i nostri lotti ai clienti. Dopo, questo è uno stampo, è una forma derivata dal laser melting, creata in verticale, viene pulita la zona di realizzazione e dopo questa fase di pulizia le forme vengono inserite in un forno che va a indurirle ulteriormente e quindi va ad attestare e va a migliorare la resistenza appunto dello strumento che poi utilizzeremo per colare il vero e proprio materiale. Approfitto per mostrare qualche altra immagine. Questa è l'immagine dell'assemblato che è stato fornito a palmieri, ora questa parte qua è semplicemente un parziale dell'assemblato, su questa forma viene colato il materiale e una volta colato il materiale abbiamo questa forma. Questa forma non è altro che il fuso terminato dove poi sarà sabbiato, sarà molato ulteriormente sbavato per raggiungere la forma finita di fonderia che noi utilizziamo per le nostre lavorazioni. A questo punto il pezzo viene messo in macchina utensile, dopo notevole programmazione vengono fatte le prime operazioni di preparazione, lavorazione primaria, secondaria, terziaria e dopo viene controllato il pezzo in macchina di misura. Questa è un'operazione che viene effettuata a ogni step, quindi a ogni operazione a macchina viene effettuato un controllo in macchina elettronica in modo da attestare la qualità del prodotto e ovviamente per favorire tutte queste operazioni che richiedono notevolmente tempo all'interno dell'azienda viene sviluppata una corsia preferenziale in base alla priorità del progetto per raggiungere poi la fase finale di assemblaggio. Una volta finito in macchina di misura il nostro primo pezzo viene assemblato e poi dopo viene messo in prova di tenuta. Prova di tenuta che viene effettuata tramite una macchina da idrotest e viene portato in pressione oltre l'1,5 del normale esercizio della testata. Per essere più chiari questa è la testata cilindro finita, completamente assemblata, completamente pressata e testata. I primi due pezzi quindi sono stati effettuati due forme, le prime due sono state realizzate in quattro mesi quindi la prima ovviamente è stata una prova, non è andata completamente a buon fine, la seconda comunque nei tempi previsti è stata realizzata e utilizzata dal nostro cliente per le sue prove interne quindi abbiamo facilmente grazie a questo processo raggiunto le aspettative del nostro cliente. Come vediamo le date di inizio, quindi l'emissione dell'ordine del cliente è stata effettuata al 27 di marzo con consegna al 29 di luglio, oltre ogni migliore previsione non potevamo essere più contenti di così. Se ci sono domande sono a disposizione e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti